Poi al ventinovesimo dal nulla un lampo con Giunta che pesca a Zunno, gran controllo a seguire con il destro e sinistro sul secondo palo che non dà scampo a guadagno. È il settimo gol in stagione anche per il giocatore di proprietà della Cremonese, l'uomo più in forma del momento senza lo squalificato Emmausso e l'influenzato Plescia, a lui tutta la responsabilità del peso offensivo.